Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4, potete contattarmi su uno dei miei social sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Buonasera a tutti Orchetti sin Orcuverde, in questo video volevo informarvi che poco fa Rockstar Games ha pubblicato un nuovo articolo sul sito Rockstar Newswire riguardo la stagione festiva da record per Red Dead Online e GTA V Online. Prima di iniziare Orchetti come sempre vi invito tutti quanti a seguire la playlist dei glitch di Red Dead Online presente nelle playlist del mio canale in quanto ci sono ancora un sacco di glitch e money glitch funzionanti che ho caricato in questi giorni e recentemente sul canale che potrebbero esservi davvero molto molto utili. Allora Orchetti, questo nuovo articolo è intitolato Stagione festiva da record per GTA Online e Red Dead Online per festeggiare ricompense bonus incredibili per tutti i giocatori. Leggendo quello che Rockstar Games ha scritto in questo articolo vogliamo ringraziare tutta la community e i fantastici giocatori di GTA V Online e Red Dead Online per un'altra stagione festiva da record in entrambi i giochi. Grazie dunque alle squadre, agli acrobati e piloti di GTA V Online, ai distillatori, cacciatori d'Italia, commercianti e collezionisti di Red Dead Online e a tutti i giocatori felici di viaggiare, esplorare e creare le proprie avventure in entrambi i mondi per il contributo fornito alla formazione di alcune delle migliori community esistenti. Grazie a tutti voi, GTA V Online entra nel suo settimo anno più popolare che mai. Dopo i record per la media giornaliera, settimanale e mensile di giocatori stabilita per due mesi consecutivi a luglio e agosto, in seguito all'arrivo del DLC Casino e Resort Diamond, l'uscita del DLC Colpo al Casino Diamond a dicembre ha fatto segnare nuovi record, attirando un numero di giocatori mai visto prima durante il periodo festivo. L'uscita consecutiva dei due enormi aggiornamenti, i più ricchi di sempre di GTA V Online ha reso a dicembre 2019 il nostro mese con più giocatori attivi di sempre. Vogliamo ringraziare anche gli youtuber che hanno giocato a GTA V, creando contenuti e commentando il gioco per tutto l'anno. Il 2019 è stato l'anno con più visualizzazioni di GTA V su YouTube, la settimana con più visualizzazioni è stata quella tra il 30 dicembre e il 5 gennaio, e i video di GTA V hanno stabilito un nuovo record di coinvolgimento tramite i commenti e mi piace nella settimana terminata il 12 gennaio 2020, inaugurando l'anno nuovo nei migliori dei modi. È fantastico vedere così tanti creatori di talento che ispirano e intrattengono altri, contribuendo a condividere con tutto il mondo il divertimento e le possibilità offerte da questi giochi. Nel frattempo, gli spazi aperti e selvaggi di Red Dead Online sono usciti nella beta nel 2019 e hanno iniziato a percorrere un proprio sentiero per diventare un mondo online dinamico. Abbiamo ottimizzato la velocità delle animazioni e i comandi per gli scontri tra giocatori, aggiunto misure per impedire che qualcuno possa rovinare l'esperienza di gioco, diffuso ulteriore vita nel mondo di gioco con nuove attività free rom, e introdotto il passo fuori legge per offrire un nuovo e migliore sistema di ricompense e progressi. Nel corso dell'anno, i giocatori hanno avuto ancora più incentivi a immeggiarsi in questo mondo e nei propri personaggi, con l'aggiunta delle prime quattro professioni della frontiera, cacciatore di taglie, commerciante, collezionista e distillatore, che permettono di progredire in più ruoli contemporaneamente, ottenendo abilità, abilamento, armi e altri oggetti specifici per i ruoli. Grazie a tutto questo, Red Dead Online ha raggiunto un nuovo picco di giocatori a dicembre, subito dopo il rilascio dell'aggiornamento distillatori, seguito da un altro picco a gennaio. Siamo fortunati ad avere al nostro fianco appassionati di questo calibro, che ci accompagnano mentre continuiamo ad ampliare e a sviluppare questi due mondi attivi e fiorenti, con nuove dinamiche di gioco, storie e molte altre novità in arrivo nel corso dell'anno. Nuove bonus e ricompense Per festeggiare questi traguardi, offriremo ricchi bonus in entrambi i giochi. GTA V Online offrirà denaro di gioco bonus, fino a ben 2 milioni di dollari, la somma più alta mai data in regalo finora nel gioco. Nel 30 gennaio sarà possibile ottenere un milione di dollari, semplicemente giocando prima del 5 febbraio, e un altro milione di dollari giocando tra il 6 e il 12 febbraio. I giocatori di Red Dead Online riceveranno una serie di omaggi, come accesso gratuito ad alcuni ruoli, oggetti speciali per i ruoli e altro ancora, tra cui il kit rapistolero e il kit da cacciatore d'Italie. Per il kit rapistolero bisognerà giocare tra il 28 gennaio e il 3 febbraio per ottenere un revolver Shelfield gratuito, un fucile varmite gratuito e il bandola di munizioni devastante che include 100 munizioni a espansione per revolver, 100 munizioni veloci per pistola, 100 munizioni express per armi a ripetizione, 100 palle singole per fucili a canna liscia e 20 munizioni esplosive per fucili a canna regata. Mentre per il kit da cacciatore d'Italie bisognerà giocare tra il 4 e il 10 febbraio per ottenere una licenza da cacciatore d'Italie gratuita, 25 bolas e 25 frecce traccianti. Rockstar Games ha scritto giocare, ma basta semplicemente effettuare l'accesso in questi giochi, nell'arco di questi giorni, per ricevere queste ricompense e questi bonus. Poi continuando a leggere quello che Rockstar Games ha scritto in quest'articolo, presto in arrivo! Ci sono ancora tante novità in programma per il 2020. Per GTA V Online è in previsione l'aggiunta di una serie di gare per ruote scoperte con nuovi tipi di veicoli. Gare intense ad alta velocità su circuito in cui sterzate strette, certe deli pneumatici e pit stop strategici faranno la differenza. In più, aspettatevi altri ricchi aggiornamenti e qualche sorpresa nel corso di quest'anno. Come abbiamo accennato in passato, anche il mondo di Red Dead Online continuerà a crescere nel 2020 con l'espansione del concetto delle professioni della frontiera tramite ruoli aggiuntivi, nuove missioni e molti altri aggiornamenti di rilievo. Se mancate da un po' o non avete mai avuto l'occasione di giocare prima, non c'è momento migliore per immagervi in questi due mondi online vivi e unici. Grazie ancora a tutti coloro che ci stanno accompagnando in questa avventura. Questo è tutto ciò che Rockstar Games ha specificato in quest'articolo. Mi raccomando Orchetti, cercate di ottenere i bonus e le ricompense in Red Dead Online, come anche su GTA V Online, in quanto sono ottimi bonus e ottime ricompense. E niente Orchetti, nella descrizione di questo video lascerò il link dell'articolo di questa notizia del sito Rockstar Newswire, di cui se volete potete darci un'occhiata anche voi. Quindi niente Orchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per diventare un Orchetto. Se siete su PS4, vi invito ad entrare nella mia community Orc Verde Gamer, tra parentesi YT, sempre scritto nella descrizione di ogni video, così come anche tutti i link dei miei social dove vi invito a seguirmi. E da Orch Verde tutti noi ci diamo al prossimo video. Bella!